...o rilasciarsi nel sole e il sole non disturba il sonno di chi è allenato alle luci di cinecità. Positano è anche un feudo di comediografi e di attori. Nella villa di Andreina Pagnani, Cesare Giulio Viola legge all'attrice la sua nuova commedia. Intorno alle battute, una scenografia sbalorditiva. Non corrono in questi giorni i carretti siciliani e i pupi spenzolano inerti dai fili. Anche la Sicilia si riversa nei suoi tre mari. A Taormina i portalettere sono preoccupati. Questo signore ne riceve migliaia al giorno. È Hauser, l'autore del libro Siate più giovani, vivrete più a lungo. Taormina, fantastico bastione a precipizio su acqua ed un tale azzurro che ad immergervi le mani pari si ritragano tinte di intenso cielo. Il bilancio è finito. Si stanno spendendo gli ultimi spiccioli della grande estate. Macario sta per lasciare la campagna ai bambini. Addio vacanze! Macario sta per lasciare la campagna ai bambini. Macario sta per lasciare la campagna ai bambini.